Abbiamo vinto dappertutto, ma dobbiamo stare con i piedi per terra. Con tre capoluoghi di provincia siciliani, Messina, Ragusa e Siracusa, che dovranno attendere il secondo turno per sapere chi sarà il prossimo sindaco, il bilancio delle elezioni amministrative parla di un clamoroso 17-0 a favore del PD e del centro-sinistra. Un successo che è stato accolto con entusiasmo contenuto da Guglielmo Epifani, ma che ha di fatto chiuso la fase di crisi apertasi con la vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica. Il voto per le amministrative è un voto soprattutto per i nostri sindaci, per le persone che noi abbiamo deciso di spendere dentro queste campagne elettorali. E però significa anche che gli italiani stanno capendo la responsabilità e lo sforzo del PD. Siamo stati lineari in questi mesi e gli italiani lo stanno capendo. Il fatto che questo governo abbia deciso di mettere al centro il lavoro, il fatto che in queste ore si provi a mettere al centro ancora lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale, l'equità, sono temi che parlano con forza al nostro elettorato. Un tema, quello del legame tra il risultato elettorale e la tenuta dell'esecutivo, sollevato ieri dal Premier Enrico Letta, secondo il quale il risultato delle amministrative rafforza il governo di larghe intese. Per l'ex segretario Pierluigi Bersani, dopo un lungo lavoro, il PD esiste ormai in natura e adesso deve sentire il peso della propria forza e della propria responsabilità, avere il coraggio della propria prospettiva. Secondo molti addetti ai lavori, ora il peso del Partito Democratico nella maggioranza crescerà a discapito del PDL. A tranquillizzare, per così dire, l'ala destra dell'emiciclo, è stato in mattinata il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. È assolutamente sbagliato trasferire i risultati delle amministrative sui contenuti dell'azione dell'esecutivo. Il PD e il PDL mettono in campo, giustamente, le proprie richieste e su queste il Governo fa la sintesi. Sintesi che ha portato oggi ad annunciare il varo, prima del vertice europeo del 27-28 giugno, di un decreto fare, incentrato sul lavoro, semplificazioni e interventi fiscali. Contestuale è arrivata l'accelerazione sul liter delle riforme. Durante il vertice di stamane a Palazzo Chigi, si è convenuto di arrivare al via libera in prima lettura, in entrambi i rami nel Parlamento, del DDL costituzionale entro luglio.